Siamo naturalmente nello spazio della web tv di Sherwood per proporvi un momento di discussione di incontro con un ospite molto gradito, Riccardo Bellofiore, che è l'autore di un saggio che vi consigliamo, che consigliamo a tutti, che è un saggio sulla crisi capitalistica, si chiama La crisi capitalistica, la barbarie che avanza per Asterios Editore. È un saggio che abbiamo ritenuto interessante, molto interessante, molto così anche suggestivo perché è un saggio che affronta il nodo della crisi capitalistica, che è chiaramente un tema che non ci abbandona da ormai tre anni, quattro, cinque anni eccetera, ed è affronta però questo argomento della crisi, del capitalismo, della crisi sistemica con, a mio avviso, poi naturalmente mi aiuterà e ci aiuterà Danilo Del Bello che è qui con Riccardo Bellofiore perché, diciamo, Danilo è il responsabile dei nostri seminari di autoformazione di Global e per cui abbiamo ragionato insieme molto su questi argomenti. Però questo saggio è molto utile, a mio avviso, perché affronta il nodo della crisi a partire dal ragionamento sulla critica a due filoni principali che si richiamano a Marx per leggere la crisi capitalistica. Il primo filone è quello che Riccardo colloca all'interno del pensiero ortodosso, tra virgolette, marxista. Un filone che lega il meccanismo della crisi alla legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, che è un nodo, è una delle questioni che abbiamo affrontato anche nei nostri seminari di autoformazione. Questo filone lega a questo la crisi capitalistica e ha come, diciamo, infatti Riccardo ci ragiona attorno a questo nodo, ha come soluzione sostanzialmente, cioè propone anche una visione meccanicistica della dinamica della crisi. Cioè il capitalismo è in qualche modo destinato a crollare, c'è una visione del crollo del capitalismo. Dall'altra parte l'altro filone che serve a produrre questo ragionamento critico e per cui molto interessante è invece il filone che viene affrontato nel saggio, è il filone invece neochenesiano neoricardiano, cioè il filone che lega la crisi del capitalismo sostanzialmente a un problema di realizzazione, cioè un problema legato al meccanismo della domanda e dell'offerta, un problema legato al meccanismo del mercato, della sua saturazione, della sua incapacità di essere dinamico. Ambedue questi terreni hanno una visione, secondo appunto, e qui è interessante perché sono analizzati in maniera anche molto rigorosa, hanno una visione del crollo da un lato oppure dell'aggiustamento dall'altro, cioè dell'aggiustamento attraverso appunto meccanismi neochenesiani. La cosa che ci interessava molto con Riccardo affrontare è proprio invece lo stare in mezzo a questi due grandi poli di ragionamento. Lo stare in mezzo perché? Perché all'interno, se scegliamo anche, e Riccardo lo fa, la caduta tendenziale del saggio di profitto come comunque un punto di riferimento rispetto all'altra teoria che vede solo nel problema appunto della realizzazione capitalistica quello che sta accadendo, è evidente che farlo dentro una dimensione critica significa anche affrontare il nodo e questo mi sembra una questione centrale oggi, il nodo di un capitalismo che non crolla di per sé, di un capitalismo che è frutto delle sue crisi e quindi il saggio è utile anche per diciamo costruire una genealogia delle crisi capitalistiche che abbiamo avuto modo di conoscere, ma anche e soprattutto vi è l'elemento soggettivo del lavoro nella sua dinamica di lotta per la liberazione dal lavoro e lotta di liberazione del lavoro e quindi sul problema di come si produce, perché si produce, sul modello appunto produttivo e sulla qualità della produzione che è insita anche la possibilità di rovesciare la crisi, cioè non vi è un ragionamento, è questo e mi sembra il nodo centrale oggettivista, deterministico o sostanzialmente progressivo della dinamica della crisi, ma vi è un ragionamento sul fatto che oggi siamo immersi in una situazione in cui ancora di più è centrale l'elemento soggettivo della lotta di classe da questo punto di vista. Questo mi sembra oltremodo interessante anche per ciò che abbiamo visto da un punto di vista globale sulla crisi. Abbiamo parlato per lungo tempo di crisi sistemica, ma poi ci siamo anche accorti, ragionando insieme, che in realtà quello che noi chiamiamo crisi sistemica del capitalismo è in realtà una crisi inedita del capitalismo, ma che non corrisponde a una crisi dell'economia mondo in quanto tale dal punto di vista capitalistico. Cioè mentre noi ragioniamo sulla crisi dell'Europa e degli Stati Uniti sostanzialmente, dal punto di vista capitalistico i prodotti interni lordi e le economie di altri paesi viaggiano a vele spiegate da un punto di vista capitalistico. Forse è la prima volta che succede che vi è una crisi all'interno, nel cuore dei paesi guida del capitalismo storicamente determinati, che non produce una crisi in tutto il mondo da questo punto di vista. Cioè quindi vi è uno spostamento del baricentro sicuramente. Questa è una delle cose insomma che troviamo interessanti. Naturalmente ecco c'è qui con me Danilo, perché Danilo è come dicevo che cura i seminari di autoformazione per noi, affronterà con Riccardo proprio su alcune domande, su alcuni nodi che emergono dalla lettura di questo saggio, così darà degli spunti che daranno modo poi a Riccardo anche di aiutarci ad approfondire un po' queste cose. Quindi do la parola a Danilo e cominciamo. Sì, intanto devo dire che questo libretto fatto da Riccardo è interessante, è leggibile, quindi va veramente letto insomma perché dà degli spunti anche innovativi per alcuni aspetti su alcune problematiche che rientrano sempre nel ragionamento che presentava anche Luca, questa riscoperta chiamiamola così, di Mars anche dal punto di vista proprio della grande borghesia capitalistica perché dal sole 24 ore fino a tante pubblicazioni legate comunque alle lobby del grande capitale c'è questa riscoperta di Mars e evidentemente per noi non è una riscoperta, è se vogliamo un tentativo di riattualizzare il discorso marsiano sulla crisi in modo che sia utile anche per affrontare il presente e l'esistente dal punto di vista ovviamente antagonistico per cui c'è un legame profondo da sempre tra teorie e prassi in questo. Allora, io farò a Riccardo alcune domande su delle questioni che mi hanno colpito. Iniziamo da un punto interrogativo. Esiste una teoria organica della crisi in Mars? A mio avviso non esiste una teoria organica. Mars è un pensatore rivoluzionario, quindi un pensatore del cantiere aperto, del laboratorio molto lontano dalla visione, diciamo, della Weltenschauung, della visione del mondo che viene proposta dopo di lui, da Engels, da Kauski per esempio, no? Dalla seconda internazionale. C'è quindi una visione del mondo chiusa, non è così. Mars sono tanti spunti di riflessione, tanti sentieri anche interrotti, appunto è un cantiere aperto, un laboratorio. La forma della crisi è insita, è nel DNA del capitalismo, cioè senza crisi il capitalismo non potrebbe assolutamente funzionare e riprodursi. Ogni momento storico di crisi è anche un elemento di riproduzione, del modo di riproduzione capitalistico allargato, una riproduzione allargata del capitalismo. Questo è l'elemento di fondo. Ma perché questo elemento della crisi è così strutturale ed è nel DNA del capitalismo? Mars lo dice in maniera, secondo me, anche molto semplice. Certo che leggere e interpretare Mars è complesso, è chiaro, però se noi vediamo i suoi elementi semplici, dalla stessa analisi della forma merce, anche quelle formulette che possono sembrare ingenue o, diciamo così, merce, denaro, merce, denaro, merce, denaro, però si capisce molto bene cosa intende Mars. Il processo capitalistico non è una produzione di valori d'uso, è una produzione di valori di scambio. Il suo scopo è quello che alla fine del processo devo trovare, dal punto di vista capitalistico, più denaro di quanto hai messo all'inizio. Quindi è produzione per la produzione, è produzione per il denaro, è produzione quindi non legata a dei bisogni, a dei valori d'uso, ma a dei valori di scambio. Questo processo di comprare per vendere, cioè la formula merce, denaro, merce, è però un processo perfino elementare nella sua forma semplice perché nasconde la crisi evidentemente, perché i due momenti nel comprare per vendere e di realizzare sono separati nel tempo, allora ci può essere benissimo, come sempre avviene, una crisi di sproporzione tra questi elementi, ma non è solo questo, non è una crisi di sproporzione e basta, cioè il fatto che i capitalisti non riescono in alcuni momenti a realizzare il denaro che hanno anticipato nella formazione del processo di capitale e di valorizzazione del capitale, non è solo questo, non è crisi di sproporzione perché questi momenti non coincidono e su questo Mars è un critico profondo dell'economia politica classica, non solo di Adam Smith o anche di Riccardo, col quale ci sono peraltro alcune assonanze su alcuni aspetti della legge del valore, ad esempio, ma anche, soprattutto, diciamo, contro la legge dell'equilibrio di Jean-Baptiste 6, in cui all'offerta di merci corrisponde una domanda equilibrata e quindi non c'è mai la crisi perché le due cose si compensano e si equilibrano tra di loro, ecco, Mars su questa questione rompe l'equilibrio del rapporto tra domanda e offerta o tra investimento e realizzazione dell'investimento, quindi crisi di sproporzione, però possiamo basarci solo su quella crisi di sproporzione? No, c'è anche crisi evidentemente di sovra produzione, è un altro elemento critico, cioè a un certo punto si producono più merci di quanti si riescono a realizzare nel mercato, può essere anche crisi di sottoconsumo da questo punto di vista. Ecco, io volevo dire solo questo, dopo la sua parola a Riccardo, che in realtà non c'è una teoria organica della crisi di Mars, ma ci sono vari elementi, come dire, di spunti teorici, di analisi, che sono momenti di una stessa totalità, per cui se noi afferriamo il concetto di totalità capitalistica, la dobbiamo vedere in Mars articolata in momenti differenziati, perché se no altrimenti ne viene fuori un'immagine deterministica, meccanicistica del marxismo che non corrispia, io non voglio dire l'autentico Mars, perché su questo sono state spese un sacco di parole, il giovane Mars, il vecchio Mars, diciamo il Mars dei manoscritti, il Mars a più sera ha fatto delle distinzioni, il vero Mars, in realtà è un pensiero radicale, rivoluzionario, che va seguito anche dalla sua genealogia. Finisco dicendo, il concetto che è la caduta tendenziale del saggio di profitto, che troviamo bene esplicitato nel terzo libro del Capitale, anche se a mio avviso anche nel primo libro del Capitale e nel frammento sulle macchine, in parte con il rapporto tra il suo valore relativo e assoluto, troviamo già uno spunto in questo senso, insomma, sono due categorie che per chi un po' ha dimestichezza con Mars conosce bene, il suo valore assoluto si estorce allungando la giornata lavorativa in maniera praticamente illimitata, il suo valore relativo che corrisponde alla vera formazione sociale e capitalistica, la soluzione reale, invece si ottiene con l'innovazione tecnologica e con l'intensificazione, diciamo, della produttività e del lavoro, che è questo che rappresenta la nostra modernità in Occidente, possiamo stare a altri paesi in cui magari ci sono ancora processi di sussunzione formale del lavoro al Capitale, perché le due cose coesistono evidentemente, non è che questo modo di produzione specificatamente capitalistico basato sull'innovazione eccetera possa, non è in tutto il mondo, ci sono processi di sussunzione formale accanto a questi. Bene, questa caduta tendenziale è il saggio di profitto, che significa che a un certo punto gli investimenti, il presupposto per investire è talmente alto rispetto alla quota relativamente sempre più piccola di lavoro vivo da cui si può estrarre plus valore e che è l'unica fonte del plus valore in Mars, è il lavoro vivo evidentemente, cioè con l'andare del tempo tendenzialmente porta a, diciamo, fine del capitalismo un termine brutto, perché dà l'idea del crollo, ma a una stag stagnazione, stag frazione, la chiamano alcuni eccetera, cioè a un punto morto, a un punto zero, nel senso che non c'è più la possibilità di riprodurre il capitale su scala allargata. Allora, io sottolineerei, ma Riccardo lo fa molto bene, io vorrei però che approfondisse questo punto, cioè che sottolineerei l'aspetto non della legge, perché l'aspetto della legge è stato creato storicamente dei fraintendimenti, a volte anche, diciamo, così economicistici, deterministici, la teoria del crollo, ad esempio, l'attesa che il capitalismo possa da sé esaurire le proprie forme, diciamo, di riproduzione, no? E noi sappiamo, devo spezzare una lancia a favore anche, oltre che Rosa Luxemburg, chiaramente, ma anche di Lenin su questo punto, noi sappiamo che nessun processo storico si esaurisce da solo, che ci deve essere una spinta della soggettività, una spinta soggettiva, va bene, ma io sottolineo la tendenzialità, quindi la tendenzialità vuol dire che non c'è né il crollo, ma neanche però l'idea che ci possa essere una riproduzione eterna e limitata da questo modo di produzione. Quindi è, se volete, anche una tendenzialità forse scientifico-matematica, cioè rappresenta, diciamo, un punto limite che però di per sé non viene mai superato. E la tendenzialità racchiude anche un concetto di potenzialità e di potenza e di possibilità di rottura e di crisi. E su questo, per esempio, Mars, interessando il piano filosofico, riprende il concetto di Aristotele, di potenza, o anche di Avicenna, della sinistra aristotelica, eccetera, che è molto interessante per noi, perché la crisi a noi serve per vedere se ci sono possibilità di un'alternativa alla crisi stessa, non tanto per analizzarla, ma per creare una prassi rovesciante, come dice solitamente Mars. Comunque, su questa caduta tendenziale è il saggio di profitto e sul tuo concetto come lo inquadri in questo aspetto? Innanzitutto ringrazio per le osservazioni e le domande introduttive. Anzi, devo dire che sono stati sollevati quasi tutti i temi del libro, quindi non avete poi molto bisogno di andarvelo a guardare. Io cercherò di interagire con alcuni dei punti di osservazioni di entrambi, in realtà. Prima, però, vorrei un po' dire come è nato il libro, perché il libro in realtà è nato a Padova, è nato a Padova perché padre Pirola di Fenomenologie e Società, cioè i Gesuiti, volle organizzare un numero, poi diventarono due parti monografiche di quella rivista di Filosofia dei Gesuiti sul nuovo interesse a Marx. Questo è un caso generale, ma soprattutto italiano, cioè che queste problematiche, il ritorno di Marx in economia e in sociologia hanno interessato più i cattolici, i cristiani che da noi altrove. Difatti, questo testo, credo che qui c'è Devisacchetto tra gli ascoltatori che fu uno dei relatori di quella bella esperienza. Io ricordo ancora con molto piacere padre Pirola che è morto poco dopo. Era, credo, l'inizio del 2010, forse, 2009-2010. Io buttai giù questa cosa sulla crisi che fu pubblicata parziale. Questo editore, Asterios, mi chiese di ripubblicarla per un pubblico più ampio e quindi ovviamente sono stato di questo molto lieto. Devo confessare che mi faceva un po' paura uscire con una cosa solo teorica, paura innanzitutto rispetto a me, perché io a questo tema sono tornato per un interesse dettato da quello che succedeva attorno a me, da un'istanza anche pratica, che cosa di Marx e non solo di Marx mi era utile per capire quello che succedeva intorno e magari muovermici in qualche modo. Questo editore mi aveva detto pubblichiamo un libretto, 70 pagine, 7 euro. Io ho detto, beh, 70 pagine sono poche, magari posso proporgliene qualcuna in più. Quindi mi sono cercato tra le cose che avevo scritto, delle cose sulla crisi globale, la crisi europea, le uscite di politica economica e glielo ho proposte. Lui, devo dire, molto velocemente, mi ha detto, perfetto, le pubblico, un altro libretto, 70 pagine, 7 euro. Così sono usciti due libri, il secondo si chiama La crisi globale, l'Europa alla sinistra. Io volevo pubblicarne uno solo, con un titolo solo, ed era due o tre cose che so di lei, ma non riesco a trovare un editore che mi accetti questo titolo. Per cui c'è un libretto rosso e un libretto nero. Io sono un po' come i padri o le madri, quando si parla più bene di uno mi chiedo, ma è l'altro? Perché no? Ora, Del Bello mi chiede, parte da un'osservazione che io trovo assolutamente corretta, lui l'ha messa in forma di domanda, io la metto in forma di affermazione. In Mars non c'è una teoria unitaria e compiuta della crisi. Ora, questo è dovuto ad almeno due fattori. Uno è il metodo di Mars. Mars analizza la realtà sociale a partire da un livello elevato di astrazione che poi si concretizza sempre di più. Forse che non sia stato troppo bravo, forse che è stato troppo bravo, lui ha chiuso solo il primo livello dell'astrazione, che è il primo livello del capitale. D'altra parte, questo primo livello dell'astrazione è il processo di produzione del plus valore, in cui sì c'è la circolazione, ci sono una serie di cose, però tutti i problemi, realizzazione, domande, eccetera, sono sterilizzati. Qualche cosa vorrà dire, cioè Mars è partito dalla situazione di sfruttamento e dell'intervento del capitale sulle condizioni del lavoro. Ora, è evidente che a questo livello tu puoi parlare molto poco della crisi. Nel primo libro è stata individuata una teoria della crisi, io credo per la verità abbastanza torto. Cioè Mars, a un certo punto del primo libro, mostra che quando le imprese investono reagendo ad aumenti salariali, questo aumenta la disoccupazione dell'esercito industriale di riserva, quindi abbiamo un ciclo, aumento dei salari, caduta dei profitti, disoccupazione, caduta dei salari e così via. Questa può essere letta come una teoria della crisi, una teoria della crisi dovuta alla compressione dei profitti dal conflitto salariale. Però le teorie della crisi che sono legate a Marx si trovano in realtà nel secondo, nel terzo libro del capitale. Nel secondo la teoria della crisi da realizzazione, che è stata ricordata soprattutto da Luca Casarini, nel terzo libro la famosa o famigerata teoria della caduta tendenzialezza a geoprofitto. Prima di arrivare su queste due, vorrei dire che in realtà c'è un'altra ragione per cui Marx non ha una teoria compiuta della crisi. Marx in realtà il secondo e il terzo libro del capitale li aveva scritti prima del primo libro del capitale. Cioè lui aveva scritto tutto il capitale tra la fine del 1850 e l'inizio del 1860. Dopo avere tutto il quadro teorico davanti a sé e è andato a pubblicare, a definire il primo libro e l'ha pubblicato nel 1867. Poi si è messo a riscrivere, riscrivere, riscrivere l'inizio del primo libro del capitale, ha lavorato ancora un po' ma non tanto sul resto. Alla fine degli anni 70 qualcuno gli è andato a chiedere in un'intervista ma perché non pubblichi il secondo libro del capitale? Allora non c'era l'idea che sarebbero stati un secondo e un terzo. La sua risposta è stata c'è una grave crisi in Inghilterra, io non posso pubblicare nulla prima che questa crisi sia terminata. Ora questo ha a che vedere proprio con il metodo di Marx. La cosa importante di Marx è che lui nel momento in cui viveva, quando scriveva, faceva due cose. Primo la critica, ne faceva tre in realtà, ma insomma la prima cosa era la critica delle teorie dominanti, la seconda capire la realtà che gli girava intorno e la terza proporre la sua risposta. Questo mi dà un leggero dubbio rispetto a tutti quelli quali arrivano oggi e dicono eh Marx è vivo, le cose che ha scritto 150 anni fa ci spiegano perfettamente cosa sta succedendo. Se c'è una cosa anti-marxiana a me sembra sostanzialmente è sostanzialmente questa. E da ciò nasce un po' l'idea di entrambi i libri ma soprattutto eh del primo. Cioè io sostengo che a sinistra le interpretazioni della della crisi eh privilegiate sono due appunto. La caduta tendenziale del saggio del profitto in un modo abbastanza meccanicistico come è stato detto. Cioè l'idea è eh quando i capitalisti investono, introducono nuovi mezzi di produzione, nuove tecnologie, queste espellano lavoro, espellano lavoro vivo. Dunque a un certo punto il capitalismo va in crisi perché non c'è abbastanza plus valore, non ci sono abbastanza profitti dal lavoro vivo. La seconda idea dominante, io qui sono un po' più radicale di quello che ha detto Luca Casarini, non è tanto che c'è una crisi da insufficienza di domanda. Perché questa cosa qui secondo me viene presentata oggi per lo meno in Italia in un modo che come dire eh non fa giustizia neanche a Keynes. L'idea è molto semplicemente questa. No, il problema è che eh c'è stata come sicuramente c'è stata una sconfitta del lavoro tale da determinare una redistribuzione del reddito a favore dei profitti. Si è determinato un mondo dei bassi salari. Dunque sì eh c'è poca domanda che proviene dai salari, quindi la crisi è dovuta al sottoconsumo. Eh? Alla insufficienza di consumo. Io credo che entrambe le tesi siano sbagliate. Penso che entrambe le tesi non possano richiamarsi richiamarsi sostanzialmente a Marx. Penso cosa eh dal mio punto di vista più grave che entrambe le tesi raffigurano il capitalismo degli ultimi trent'anni come un capitalismo sostanzialmente stagnazionistico. Ora questa è di nuovo una cosa che secondo me fa pugni con Marx. Cioè l'idea di Marx era il capitalismo quando va in crisi va in crisi per le contraddizioni della forma della crescita, della forma dell'accumulazione. Non ce n'è una sola, ce n'è varie nella storia. Allora la mia idea è se noi vogliamo capire questa crisi, la crisi di quello che chiamiamo volgarmente neoliberismo, dobbiamo capire il neoliberismo come forma in qualche modo anche dinamica. In certe aree del pianeta, sicuramente in Asia, sicuramente nel capitalismo anglosassone, ci sono state aree di stagnazione, il Giappone e l'Europa, che sono state trascinate. Allora a questo punto, e qui dopo le cose che sono state dette prima posso andare abbastanza veloce, il mio discorso è questo. Sì, io recupero la teoria della caduta del tendenziale del saggio del profitto, ma non fatevi per favore imbrogliare dalle parole. Non è la stessa cosa della teoria che ho detto prima. Io quello che voglio dire è che nel capitalismo sicuramente per Marx non la crisi, ma l'accumulazione, cioè quando le cose vanno bene, i capitalisti investono e questo si traduce in un maggiore sfruttamento dei lavoratori ma anche in un'esposizione dei lavoratori e quindi col rischio che ci sia una caduta del saggio di profitto. Questa cosa qui si è verificata nella storia? Sì, si è verificata fino a 800. Marx è stato un buon profeta. Quando lui ha scritto negli anni 60 ha capito la crisi di fine 800, quella che gli storici chiamano lunga depressione. Solo che ci sono i soggetti sociali, ci sono le classi sociali. I capitalisti hanno reagito. Hanno reagito con il fordismo, l'introduzione della catena di montaggio, con il telorismo, l'organizzazione dei tempi e metodi. Quindi hanno fatto in modo che aumentasse molto lo sfruttamento sul lavoro. Negli anni 30 del 900 a questo punto si è creata la condizione di una crisi da insufficienza di domanda. Cioè a fine 800 il capitalismo è andato in crisi perché c'era poco plus valore. Scusate, perché c'era poco plus valore rispetto al capitale anticipato. Negli anni 30 del 900 è andato in crisi per il motivo opposto, perché c'era troppo plus valore. Però io capisco la crisi degli anni 30 se la metto in relazione con la storia precedente, non meccanicisticamente, non oggettivamente, ma come interrelazione con i soggetti sociali. Questo significa anche la lotta contro la composizione di classe dell'operario di mestiere. A questo punto c'è la seconda parte del libro, che qui è stata accennata molto velocemente, che è dovuta al fatto che ci sono state altre due grandi crisi del capitalismo. Quella degli anni fine 60-70 del 900 e quella che viviamo. Sono due crisi molto diverse. Quella della fine anni 60-inizio anni 70 è la crisi del mondo che si è costruito dopo la seconda guerra mondiale. È il mondo keynesiano, è il mondo in cui hanno imparato a risolvere il problema della insufficienza di domande, di domanda, facendo intervenire lo Stato, uno Stato che interviene ad acquistare merci dalle imprese, un intervento keynesiano che i keynesiani purtroppo se lo dimenticano, lega la piena occupazione, la welfare al keynesismo militare, parte con la guerra di Corea, prosegue con la guerra del Vietnam e così via. È un keynesismo che non viene ad andare in crisi solo in questa sede, mi permetterò di dire, principalmente da destra o per un complotto delle classi dominanti. Va in crisi per lotte sociali durissime degli operai, ma non solo degli operai che attraversano l'intera società, è dunque un capitalismo che va in crisi di nuovo perché si produce poco plus valore. Questo ha a che vedere con le lotte salariali, ma ha a che vedere anche con le lotte direttamente sul luogo di lavoro. A questo punto, e questa è la parte finale del mio libro, in cui ho recupero degli spunti keynesiani che però non sono quelli più diffusi, il capitalismo risponde su due gambe. Adesso devo andare alla svelta perché ho già preso troppo tempo. Le due gambe sono, con termini che non mi piacciono troppo, la finanziarizzazione e la precarizzazione. La finanziarizzazione si lega alla inclusione delle famiglie, delle classi medie, a un certo punto, anche povere alla fine, dentro la finanza e dentro il debito, mentre la precarizzazione si lega alla costante frammentazione del mondo del lavoro, dove la precarizzazione parte dai contratti atipici da certe figure e poi, come vediamo oggi, in pratica è cronaca, si generalizza. Le due cose peraltro non sono indipendenti perché quando l'operaio americano negli anni 80 e 90 dai suoi soldi ai fondi pensioni, aspettandosi che in un mondo di incertezze lui possa andare nel weekend a pescare e questi fondi siano gestiti da dei money manager i quali li faranno fruttare il più in fretta possibile, questi money manager vanno a gestire le scelte reali delle imprese, influiscono sulle scelte reali delle imprese. Si arriva ai paradossi del caso famoso di Danone, in cui la Danone fa profitti ma si licenzia perché si sa che questo valorizzerà le azioni e tutti sono contenti. Il lavoratore del Massachusetts o dell'Illinois non si rende forse mai conto, neanche quando gli torna con violenza come attacco alla sua condizione di lavoro, che c'è un legame in tutto questo. Quindi la risposta alla crisi degli anni 70 è una risposta, io non so se dire oggettiva o soggettiva, che va su queste due gambe, mette in piedi un universo che è basato sulla crescita del debito privato, non più del debito pubblico, in una situazione che è fortemente instabile e alla fine insostenibile e tutto salta nel 2007. Non ce lo ricordiamo più ma sono cinque anni. La crisi americana poi si scarica sulla crisi europea, lì il discorso si complica perché lì ovviamente ce l'abbiamo messo del nostro, come dire. E quindi c'è il rischio di una ricaduta nella crisi. Su una cosa forse ho, non so se un dissenso o un punto da discutere con Luca, ed è questo. Lui ha detto che questa crisi sistemica non è globale. Forse non lo sappiamo ancora, ma ha avuto un momento di globalizzazione e potrebbe averne un altro. Cioè la crisi è nata finanziaria a metà del 2007, è andata in caduta verticale agli Stati Uniti, per un anno anche a sinistra e ci hanno raccontato che questa era una cosa americana, c'era il delinking, lo sganciamento. Ora, con il mio amico e compagno Josef Alevi, noi abbiamo cominciato allora a inventare una caricatura. La caricatura era, gli Stati Uniti cadono, le esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti vanno giù, come sono andate giù. A questo punto la Cina importa meno macchine sofisticate dalla Germania e la sua fornitura italiana verso la Germania va giù. E difatti dopo un anno è andata giù l'intera catena. La crisi si è globalizzata, ha anche beccato un po' l'America Latina. Dopodiché è avvenuto che mentre Obama parlava di New Deal, ci sono stati sei mesi di terrore nel capitalismo internazionale, sono stati pochi, secondo me dovevano essere di più perché qualcosa cambiasse. I cinesi hanno fatto l'unica politica da vecchio kinesismo, hanno fatto una manovra di 700, mi confondo sempre con le migliaia, migliaia di miliardi di dollari, hanno fatto investimenti infrastrutturali molto secchi e ci hanno tenuto tutti sopra il pelo dell'acqua. Ora la crisi europea rischia di creare di nuovo una ricaduta in una crisi globale. La Cina sta andando giù, l'America Latina sta su, ma teniamo presente che lo sviluppo dell'America Latina è legato a due cose che sono i tassi di interesse molto bassi, e questi continuano fino a che c'è la crisi, e l'altra cosa è l'andamento dei prezzi delle materie prime che va su e giù. Quindi i rischi globali io temo che ci siano, però questa ovviamente è una cosa aperta. Sì, diciamo, nel tuo libro ci sono anche altri spunti che penso interessanti. Devo dire però un piccola parentesi. Il capitalismo è ovviamente una totalità contraddittoria per cui al suo interno coesistono forme differenti. Per cui laddove nell'Occidente capitalistico, tanto per intenderci, c'è un grande tasso di innovazione, c'è estrazione di imposto valore relativo, eccetera, eccetera. In altre aree del mondo questo può coesistere con quella che potrebbe definire quasi una sussunzione formale, un'accumulazione originaria. Non sono, non credo che siano due aspetti contraddittori, per cui certamente la totalità a un certo punto potrà essere, avrà un elemento di criticità globale, però è anche vero che bisogna sapere analizzare materialisticamente appunto anche le differenze, perché altrimenti l'immagine scatologica che la crisi globale possa anche essere crollo generale, potrebbe anche deviare, come dire, in qualche modo, no, no, lo so. Però ci può essere questo rischio, crisi globale, rivoluzione mondiale, delle questioni che sfuggono a un'attenta analisi materialistica della situazione di fatto, che giustamente, come dicevi tu, va sempre letta, almeno per noi, dal punto di vista della composizione di classe e dal punto di vista della lotta di classe, cioè in realtà è la lotta di classe che fa decifrare, cioè Mars, diciamo così, fa un discorso molto potente sulla questione del proletariato, non è una banalità. Lo chiama, prima di definire il proletariato di fabbrica, quando ha conosciuto il suo caro amico Engels, padrone di fabbrica, appunto, e ha aggiunto a una cosa che lui aveva pensato già da giovane e la chiamava l'umanità sofferente. A questa umanità sofferente aggiunge poi il termine, ovviamente, dentro la critica dell'economia politica e appunto è dentro il ragionamento marziano maturo, aggiunge la categoria di proletariato di fabbrica. Potremmo portare bene il proletariato di fabbrica un po' diverso da classe operaia to court, perché allude a una composizione anche che va oltre, diciamo così, al mero e semplice esercizio del lavoro salariato, comprendo una realtà sociale molto più complessa, molto più vasta. Ma a parte questo, qual è l'elemento? È chiaro che oggi, laddove si manifestano delle lotte forti, potenti, noi possiamo anche decifrare la natura in qualche maniera della crisi capitalistica, se no altrimenti rischia di essere offuscata da quello che continuamente, diciamo anche noi, dal feticismo della merce, dall'arcano della merce e da quel gusto marziano, questo amore marziano per Shakespeare che ci rende una realtà spettrale sostanzialmente. Il mondo delle merci è un'oggettività spettrale che rende un velo, un velo di maia e che nasconde le vere origini, diciamo così, della contraddizione e anche nella crisi. Per cui dobbiamo sempre abbinare. E su questo volevo dire, un punto mi interessava, penso che sia importante, quando tu parli del salario relativo e parli, diciamo così, di Rosa Luxemburg, del salario relativo, che è un punto, secondo me, molto fondamentale, e della lotta operaia, delle lotte operaie, come lotte appunto sul salario relativo, che non è, che è il salario relativo, cioè il salario relativo è rispetto al volume della ricchezza sociale prodotta, per questo è il relativo, per cui non è necessariamente legato a un concetto di miseria, come, diciamo così, dal punto di vista salariale, il salario assoluto, diciamo, se è visto staticamente come categoria non dinamica, potrebbe portare a un concetto di miseria. Non è così, non è così in marse, non è così neanche per noi, il salario relativo è comunque sempre rispetto a quello che viene prodotto come ricchezza sociale generale dalla cooperazione sociale. E quindi sono le lotte operaie per l'aumento, sostanzialmente, del salario, che significa però aumento di tutto quel mondo welfareistico, sostanzialmente, su cui il kinesismo è stata, e questo dopo, su due domande. Una, sulla lotta di classe rispetto al salario relativo e all'indipendenza e all'autonomia degli operai e del proletariato attorno a questa categoria. Due, su quello che mi sembra uno spunto interessante, in cui leghi il kinesismo, anche se magari non propriamente, il kinesismo però al complesso militare-industriale, cioè quindi al fatto che la crisi, diciamo così, del saggio di profitto e del saggio di plus valore, praticamente, viene in qualche maniera compensata attraverso l'industria di guerra, l'industria bellica. E non è vero solo per la... A questo punto, a chi ho riflettuto, non è vero solo per la crisi del 29, non è vero solo per la grande crisi, ma è vero anche oggi. E tu... Terza domanda, te le faccio a tre. E citi il neoliberismo... Si, te le ricordo, mi vengono in mente adesso, il neoliberismo, la forma reganiana e anche busciana, insomma, e anche ora non è tramontata, però questa idea di compensare alla caduta del saggio di profitto attraverso le guerre, attraverso la guerra. E oggi nel mondo c'è una situazione, diciamo, di guerra generalizzata, se guardiamo bene, non nel nostro occidente, chiaramente, nel resto del mondo c'è una situazione di guerra, quindi vuol dire distruzione, come Mars diceva, quando c'è una crisi c'è la distruzione per la ricostruzione, c'è far funzionare certi rami dell'industria per razzarne il saggio di plusvalore e il saggio di profitto a livello... E questo probabilmente ha permesso anche il cosiddetto keynesismo, anche se secondo me keynesismo è una risposta politica alla rivoluzione d'ottobre, chiaramente, a quello che era lo spettro del comunismo, e quindi c'è anche questo, un'assunzione di elementi socialistici stravolti all'interno del mondo del capitalismo. Però è vero, c'è molto di questo aspetto militare, come anche diceva Rosa Luxemburg, che tu spesso citi, non ha torto, però appunto volevo che... vedi un attimo queste due o tre punti, se te li ricordi. Allora, io provo a dire cosa mi ricordo, se mi dimentico tu poi intervieni. Una prima cosa che non ho detto, ma tu hai fatto bene a mettere in evidenza, è che bisogna evitare una trappola, cioè l'identificazione crisi-crollo. Allora, la crisi è l'esplosione delle contraddizioni di una certa fase dell'accumulazione capitalistica che non vive dalla stagnazione, cioè l'idea di Marx è che non si può vivere permanentemente di rapina. Io non so cosa lui penserebbe dell'analisi della finanziarizzazione che vedono una rapina permanente che va avanti per decenni e decenni. Ma al tempo stesso la crisi è la soluzione e la creazione delle condizioni di una nuova crescita. Ora, qui c'è un problema perché le grandi crisi sono una soluzione attraverso un percorso che passa per l'inferno. E noi sappiamo, almeno dal Novecento se non da prima, che questa uscita dalle crisi è determinata dall'intervento politico. E l'intervento politico può venire da destra, può venire da sinistra. Noi siamo nel mezzo di una crisi molto lunga che può andare avanti chissà dove e che può prevedere, secondo me, un intervento in alto a destra spinto dal conflitto in basso a destra. Cioè è sempre una realtà che dobbiamo avere presente. In ogni caso crisi non significa crollo. Significa ricostituzione delle condizioni dell'accumulazione anche attraverso la lotta che i capitali si fanno tra di loro, il fatto che si comprino, la svalorizzazione del capitale e così via. Seconda cosa, questo passa attraverso una serie di figure anche che dall'altro lato sono figure di lotte, di figure sociali, di figure di lavoratori, in certe fasi di figure operaie che cambiano. Quindi, come c'è stato, ho detto, fino a 800, inizio a 900, la figura dell'operaio di mestiere come figura dominante, sicuramente nella fase del fordismo è stata dominante, anche se non esclusiva, la figura dell'operaio massa. Dopo, io qui ho una differenza rispetto a certe teorie, non credo che sia molto produttiva la ricerca di una figura dominante, che sia l'operaio sociale, che sia il cyborg o cyborg, non so come si dica, eccetera. Secondo me, dopo si è determinata una esplosione di figure connesse ad una costituzione del capitalismo in rete, perché questo capitalismo contemporaneamente ha bisogno, da certe parti, di lavoro a basso costo, o da altre parti, di lavoro flessibile, di alta qualità, anche ben pagato, subalterno. E allora deve gestire, in qualche modo, questa duplicità. Questo mi fa avere dei dubbi su un'abitudine che come marxisti abbiamo avuto per lungo tempo, e cioè l'idea che si passa dalla sussunzione formale alla sussunzione reale, dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo, senza tornare indietro e senza incroci. Per cui magari in questo mondo c'è un'area del mondo che è il mondo del plusvalore relativo, un'altra che è ancora il mondo del plusvalore assoluto e dunque ha una serie di fasi da fare. Ora, una caratteristica di questo capitalismo in rete, di queste catene transnazionale, è esattamente che l'impresa tedesca, nella sua catena, ha una serie di produzioni che sono anche di pura e semplice estrazione del plusvalore assoluto. D'altra parte, come dire, questa sussunzione formale e sussunzione reale, plusvalore assoluto e plusvalore relativo, si mescolano nel centro come altrove, cioè in quello che una volta noi chiamavamo paesi emergenti o in Cina, cos'è? È capitalismo avanzato. Certe aree del nostro universo sono invece capitalismo relativamente arretrato. Il ritorno poi all'estrazione del plusvalore assoluto è una cosa, come dire, universale. Quindi da questo punto di vista io tenderei a mettere un attimo di cautela. Le domande specifiche dimmi sono dei punti di appoggio. Il salario relativo. Allora, io ho fatto la tesi su Rosa Luxemburg, ho studiato in un mondo in cui la critica a Marx era che Marx aveva una teoria dell'impoverimento assoluto. Da quel punto di vista lì era liberante scoprire che in Marx l'impoverimento è relativo. Cioè il capitalismo può crescere, cresce la distanza, ma è perfettamente possibile che la classe lavoratrice conquisti, faccio il caso estremo, più salario reale e meno orario di lavoro, meno tempo di lavoro, questa può benissimo essere una condizione di base, per esempio, del cosiddetto riformismo, c'è un elemento in cui c'è un conflitto radicale ed è la condizione di lavoro ed è anche poi si traduce nel fatto che quando il capitale cresce tende a crescere la fetta di ricchezza sociale di cui si appropria. Ora qui c'è una complicazione, la complicazione è che questo vale per il lavoro direttamente produttivo di valore. E' perfettamente possibile che parte di questo plus valore venga poi redistribuito a centi sociali che per Marx non sono direttamente produttivi. Quindi, come dire, quando io mi leggo in Rosa Luxemburg l'idea che il salario reale può crescere, ma c'è una legge che non è la cosa del senso del senso del senso del profitto, su cui lei è violentissima, ma è la legge che il salario relativo, cioè diciamo volgalmente la quota del salario sul reddito, tende a cadere e che la lotta contro questo non è una lotta in cui il capitale reagisce puramente e semplicemente perché sono cattivi e che tu gli stai proprio mettendo in questione la loro natura di essere. Quindi la lotta contro la caduta del salario relativo è la lotta rivoluzionaria e ti devi porre un problema di sbocco politico, altrimenti questo sarebbe il migliore dei mondi possibile, diciamocelo, magari anche un po' più vivace di quello che è il socialismo, così come lo abbiamo visto dalle altre parti. Beh, questa cosa era liberante. Io credo che funzioni ancora come cautela. Certo noi siamo in un universo in cui l'impoverimento assoluto è diventato per vaste aree del mondo e vaste aree dell'Italia come dire una cosa su cui non ci puoi passare sopra. Quindi forse in questa fase possiamo anche recuperare delle parti di Marx in cui si dice guarda sì, il capitale di suo nella sua logica sarebbe per la comprensione del salario relativo. dopodiché questi sono dei bastardi che pur di ottenere il plus valore non lo fanno via aumento della forza produttiva del lavoro e innovazione. Ti abbattono il salario se solo possono. La crisi è uno, come dire, delle condizioni elementari di questo. Poi c'è il kinesismo di guerra. Il kinesismo di guerra. Allora, il kinesismo di guerra... Allora, qui i problemi sarebbero due. Uno il kinesismo e l'altro il New Deal che tu non hai trattato ma che andrebbe messo di mezzo. Allora, dalla grande crisi si esce solo con la seconda guerra mondiale. Perché se noi prendiamo gli Stati Uniti c'è stata l'esperienza del New Deal dal 1933 al 1937 di Roosevelt. Normalmente viene raccontata come un'esperienza kinesiana. Non lo è. Roosevelt era contro i disavanzi di bilancio. Quindi da questo punto di vista era più arretrato. Da altri era più avanzato. Perché quello che lui ha proposto, ma l'ha proposto perché c'erano masse e conflitti molto forti che lo tallonavano, era il fatto che lo Stato doveva, uno, dare occupazione diretta ai disoccupati, due, produrre beni socialmente utili. Quindi è intervenuto direttamente sulla composizione della produzione. Quando nel 1937 il disavanzo di bilancio è andato giù, lui si è comportato, non dico come Monti e così via, ma ha tirato il freno a mano. E l'economia americana è ricaduta nella crisi. Un'altra delle ambiguità del New Deal è che questa cosa qui fu molto chiusa nei confronti degli Stati Uniti. Questi limiti Roosevelt se li ha dimenticati con la guerra. Con la guerra, lui l'ha anche scritto, si può andare in disavanzo senza nessun problema, si è usciti in questo modo dalla guerra. A quel punto la novità successiva è stata che quando si è ridotta la spesa militare in generale, non si è ridotta la spesa pubblica. Però la spesa militare è rimasta chiave. Ho ricordato la guerra di Corea, ho ricordato la guerra del Vietnam e compagnia bella. Poi arriva il neoliberismo. Ora, una delle cose provocatorie dei due libretti è che io chiamo il neoliberismo come una forma di paradossale kinesismo. Questo è strano, perché tutti sappiamo che nel 1979 è arrivato Folcar alla banca centrale americana, poi Reagan, poi Thatcher. Questi hanno attaccato il kinesismo, stretto l'offerta di moneta, aumentato i tassi di interesse enormemente, quindi gli investimenti privati cadevano, attaccato il sindacato, quindi i salari cadevano, attaccato la spesa sociale, quindi la spesa pubblica cadeva. Io la domanda che mi faccio è ma caspita, bisognava ricrollare in una crisi, in una stagnazione? Subito, 3-4 anni dopo, com'è che non è successo? La risposta è che è successo. È successo nell'82. Rischiava di saltare il sistema bancario americano. Reagan e la classe dirigente americana si è spaventata. Quindi il secondo Reagan, quello dal secondo mandato di Reagan, dall'83-84 all'88, qui rubo il termine a Paul Krugman che nel suo blog ha chiamato questa roba qui weaponized kinesianism, kinesismo basato sulle armi, le guerre stellari. Non è solo che erano dei bastardi militaristi. Se noi parliamo tanto delle innovazioni sulla comunicazione e l'informazione, è tutta legata a quel tipo di investimento e agli investimenti anche nell'università legati a quelli e così via. Io questa la chiamo come una controtendenza alla crisi da domanda. A quel punto Reagan è diventato il presidente più kinesiano della storia perché è quello che ha aumentato di più i disavanzi del debito americano. Guardatevi le statistiche, è una cosa impressionante. Dopo di lui viene Bush Junior e a questo punto l'America è arrivata anche a importare di più dall'estero non solo rispetto a Germania e Giappone, cosa che avveniva dalla metà degli anni 60. A metà degli anni 80 avviene da tutti. Quindi gli Stati Uniti fornivano domanda a se stessi ma anche ai paesi cosiddetti neomercantilisti che superano il problema dell'insufficienza di domanda esportando all'estero. Dopodiché il mio terzo passaggio è che in realtà gli anni 90 e dopo sono caratterizzati da questa cosa strana che è l'inclusione delle famiglie dentro la finanza che fa sì che si sia costretti a indebitarsi lo si possa fare perché in maniera alienata in qualche modo attraverso questi fondi sia in qualche maniera inclusi in questo mondo che consente il consumatore indebitato. Ora così io non voglio entrare nei dettagli è evidentemente troppo generico perché dobbiamo stare attenti che le famiglie ci sono le famiglie ricche e le famiglie povere ma la cosa impressionante è che le famiglie povere stesse sono state incluse in questo tipo di meccanismo che crea il vecchio sfruttamento cioè voglio dire se voi siete l'operaio pescatore del Massachusetts o del Wisconsin o se siete una famiglia indebitata voi e se i salari non crescono più persone nella famiglia entreranno sul mercato del lavoro lavoreranno più tempo saranno meno conflittuali cioè questo meccanismo finanziario sofisticatissimo poi ti aumenta lo sfruttamento nel senso del vecchio Mars questo io lo chiamo keynesismo privatizzato chi è l'eroe di questo keynesismo privatizzato? è Alan Greenspan il governatore della Banca Centrale Americana cioè io uso un termine che nei convegni qualcuno mi chiede ma che vuoi dire? e io gli dico guarda fuori dalla finestra il termine è lavoratore traumatizzato altri non capiscono bene pensano dicono vabbè questo è di sinistra lavoratore traumatizzato non l'ho inventato io l'ha inventato Greenspan è anedottica ma a metà degli anni 90 quando la disoccupazione negli Stati Uniti stava scendendo sotto il 6% e tutti gli economisti si strappavano i capelli se scendiamo sotto il 6% i modelli ci dicono che aumenteranno i salari e poi i prezzi delle merci lui ha detto due cose si narra primo non preoccupatevi c'è il lavoratore traumatizzato e ci sono dei brillantoni dalle parti di Stanford di Palo Alto che mi dicono stanno facendo delle cose interessanti lui voleva dire due cose la prima è le condizioni del lavoro sono tali che noi possiamo di nuovo avere una piena occupazione questa volta senza la rottura di scatole di aumenti dei prezzi e dei salari perché i lavoratori sono così traumatizzati che non riusciranno a incassare o a rompere scatole sui processi di lavoro e l'altra cosa è ci sono dei cambiamenti nel processo produttivo che i vostri modelli che stanno guardando al passato non funzionano purtroppo neanche i modelli dei marxisti e dei chinesiani erano in grado di acchiappare questa realtà il punto era che questo meccanismo che era un meccanismo abbastanza potente nella inclusione era anche un meccanismo estremamente fragile dava l'impressione dell'opposto ma estremamente fragile ed è saltato in aria quindi la vera domanda è di fronte a una crisi di un meccanismo di questo genere tu come ne esci cosa proponi perché il carattere di crisi sistemica è che non è un puro dal mio punto di vista problema di distribuzione certo che c'è un problema distributivo enorme ma è proprio un problema del meccanismo del motore della ricerca cosa ti aspetti tu che ritorni il meccanismo delle bolle che si tirano dietro il consumo io ho qualche dubbio è possibile ma insomma non mi sembra esporti dove? sulla luna? come mondo? non lo puoi fare investimenti privati? no allora la mia idea è che si dovrà prima o poi tornare ad un ruolo attivo della spesa pubblica solo che questo può avvenire anche da destra non solo da sinistra e c'è chi lo dice c'è solo una persona un il il marito non economista non so neanche sia di sinistra che mi ha detto ma nessuno ti ha detto che nel primo saggio del libretto nero tu dici una fesseria cioè a metà dei sei mesi di terrore io ho detto sì sì c'è questo bravo ragazzo Obama che parla del new deal verde occhio che può arrivare su questo in alto a destra spesa securitaria in basso a destra conflitto sociale l'esatto opposto cioè una spesa attiva dello Stato tutto da un'altra parte e lui mi ha detto ma nessuno si ha detto che hai sbagliato la previsione e lui ha assolutamente ragione cioè io sul breve termine ho sbagliato la previsione io vi dico attenzione perché secondo me il gioco prima o poi starà lì il prima o poi è che noi passeremo attraverso l'inferno perché con il tipo di governanti che ci ritroviamo come dire dopodiché in questo modo non usciranno dalla dalla crisi la questione è è l'Europa talmente irrilevante da non contare per una ricaduta nella crisi io questo francamente due anni fa pensavo di sì adesso comincio a pensare a pensare di no però quel problema vero c'è il problema di uno sbocco politico della crisi che bisogna cominciare a delineare ma che può essere uno sbocco che va da un'altra parte l'unica cosa sicura a questo tu devi rispondere con una dura resistenza come dire le due cose non sono opposte resistere e immaginazione programmatica bisogna trovare un ponte tra le due io ringrazio Riccardo e ringrazio anche voi che siete stati qui a farci compagnia ad ascoltare vi consiglio ancora il libretto che trovate in libreria colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i compagni e le compagne che danno vita alla web tv che è un potente strumento per rovesciare il meccanismo di controllo e di comando che è insito anche nello sviluppo tecnologico e niente vi invito naturalmente alle altre iniziative Riccardo lo ringrazio particolarmente perché credo che ci abbia dato modo anche non so se sei d'accordo magari di iniziare un lavoro insieme anche qui noi facciamo lo ripeto questi seminari di autoformazione credo che sia un'occasione anche così di scambio che qualche volta possiamo ripetere perché insomma è piacevole e molto interessante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti